Che cosa hai fatto qui? Niente, qui una notte parlando con Rosario è nata quest'idea di fare qualcosa di beneficente, qualcosa di bello per i famigli, giusto? Perfetto Il fratello conferma? E quindi niente, abbiamo pensato... Ebbè, noi sappiamo già che la pizziera da Franco ogni anno fa un'attività di beneficenza Dal cuore di Vico e Quenze nel cuore di Sorrento Quindi abbiamo ideato questo tronco della felicità col pizzaiolo che sarebbe dedicato a loro Quindi felicità per tutti e soprattutto per noi Eccola qua, l'anteprima Ma poi quale più locale è bello di queste? Una tombra per stare tutti insieme, dove i tavoli uniscono È vero, da Franco tutti ci vengono Tutti i tavoli per stare insieme vicini Perfetto